Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovo vlog Non è un vlog, è un video nesplay È la stessa cosa! Ok! Comunque stiamo nel gioco di... Il gioco di... Crepa Spara la Peppa Cara Spara la Peppa Cara Play Allora, si deve rinunciare il corridoio e se c'è Peppa Cara devi sparare E sperare il gioco spazio su PC Spazio, sì Io tengo una tecnica di fagno Ma no, no, fai normale, scusa Sei a 30 secondi, sei in un'altra Scusa Poi fanno paura Nooo Ragazzi, aspetto finché non si è in un'unione Sono già come è fantastico Ti puoi pure muovere, vedi? L'aggiornamento dove ci saranno più pistole, fidati Ci sarà pure la shotgun, la minigun L'RPG Lancia granate Se lo riuscimo ad aggiungere, sanno Vabbè Ma ragazzi, basta, ma vado a modalità farm E magari però se metto Farm di scorro Ogni chilo, ragazzi Comunque non so se lo riusciremo ad aggiungere nell'aggiornamento 2 Potremmo mettere Che vuole scrivere ogni chilo E' un Si farma un euro del gioco Una specie di euro del gioco Per fare uno shop Infatti, eccoli qua Dove c'è scritto 24 E quelle sono gli euro del gioco No, quelle sono le uccisioni Ah, le uccisioni Dico gli euro del gioco Ogni uccisione Praticamente E' una E' una pistola in più che si aggiunge Che è la che farò io Quindi, in modo, devo stare molto attento Perché Sempre dobbiamo aggiungere 100 armi nuove Dove vi sto Comunque, sempre Dobbiamo aggiungere Già 31 armi E chi le ha giù Chi le ha Con i modelli del B Beh, ragazzi Il nostro video finirà qua Ciao Quanto che è più lungo Beh, un attimo In modelli da farm Ragazzi Che ho 40 Ok, ragazzi Ciao In infinito Yeah Ciao, rega Comunque, presto Un po' Arriverò un nuovo video Comunque, presto La giornata Fantastico Ciao, rega Ci vediamo Per un po' Con il nostro Con il nostro Nuovo video, rega Per un po' Ci vedremo Con il nostro Nuovo video Di scherzi telefonici Ciao, rega Yeah Ciao, rega Ciao, rega Ciao, rega Ciao, rega